Alla Fageneria, nel Museo di Capodimonte, nell'ambito del Napoli Teatro Festival 2020, scena Troia City, la verità sul caso Alexandros, ispirato ai frammenti dell'Alexandros di Euripide, scritto da Antonio Piccolo, che è anche in scena, con Marco Vidino per la regia di Lino Musella. Sulle tracce di una tragedia perduta, un investigatore compie un'indagine per metterne insieme i pezzi e ricostruirne la vicenda ai personaggi. Il testo di partenza è appunto Alexandros, l'opera di Euripide, che ci è giunta in completa una sorta di prequel della guerra di Troia. In scena la lavagna dei gessetti, la sabbia dei giocattoli e il racconto della distruzione di Troia, dell'incendio della biblioteca di Alessandria e della perdita dell'infanzia. Un repertorio che a volte viene riproposto in maniera un po' accademica, un po' noiosa, invece appunto siccome è eterno e contemporaneo, il Cavalluccio Rosso è uno dei tanti elementi che ce lo rendono vicino, è chiaramente una citazione di Così parlo a bella vista che non viene sottolineata poi durante la performance, sta lì, chi la coglie la coglie.